La Giove La Giove Io sono nata nel Viale Cavallotti, quindi sono stata sempre nella parrocchia dei Paolotti e dopo la prima comunione ho cominciato a far parte dell'Azione Cattolica come aspirante, poi come giovanissima, giù giù tutte le cose che, dopo giovanissime c'erano le socie dell'Azione Cattolica. Il babbo era Raffaele Vitali, famiglia di Giesi, mamma era Giulia Pieradisi, pure lei di Giesi. Era gente modesta, non è che era gente molto... però il babbo era impiegato nella casa di risparmio, mamma casalinga. Noi abbiamo avuto tutta la giovinezza nella guerra, perché la guerra è stata dal 40 al 44-45, e quindi quando io avevo 15 anni, fino a 20 anni c'è stata sempre la guerra. Quindi non è... la gioventù l'abbiamo passata un po' diversa da quella di oggi, insomma. Quella volta non c'era niente quando eravamo ragazzi noi, non c'era proprio niente, c'era soltanto la parrocchia e si andava lì, si stava insieme agli amici, questa era la vita di quei tempi. E quindi lì ho lavorato molto insieme a tutte le mie amiche, eravamo parecchie. Ho fatto quattro anni di inferiore e quattro anni di superiore, dopo le elementari. Quella volta non c'erano le medie, non è come adesso che ci sono le medie, no? Io sono ragioniera, sono ragioniera dal 1944, quindi ecco, questo è il mio curriculum. Dopo io ho diventato grande, molto grande, verso il 1947-48, sono diventata Presidente di Diocesana dell'Azione Cattolica, della gioventù femminile. L'Azione Cattolica non era come adesso, che c'è soltanto un Presidente. Quella volta ogni gruppo, i giovani, le donne, gli uomini, ognuno aveva il suo settore. Quindi io ero Presidente di Diocesana e della gioventù femminile. E nello stesso tempo, nella gioventù meschile, era Presidente, il futuro mio marito. Io l'ho conosciuto nei primi tempi nell'Azione Cattolica, così lo vedevo come lo vedevo tutti gli altri. Ma mi è piaciuto subito, vi dico la sincera verità. Però dopo ci siamo incontrati a casa di mia sorella, perché aveva sposato un suo amico carissimo di Santa Maria. Quindi ci vediamo qualche volta lì. Poi sempre, essendo Presidente, tutti e due gerami giovanili, maschi e femmine, ci incontravamo nelle riunioni, come si chiama, nei consigli pastorali, queste cose qui. Però queste cose sono rimaste tutte lì, perché dopo io sono stato impiegato alla cassa di risparmio, ho lavorato sempre lì e contemporaneamente ho fatto la Presidente di Diocesana. Invece lui è andato a Roma per gli studi, dopo è diventato medico. E forse non so se mi pensava per niente, so che io ci ho pensato sempre, questa è la sincera verità. E dopo nel 1955 ci siamo incontrati e lui mi ha detto, come ho scritto sul libro, che mi ha detto che gli antichi, i profeti, come si chiamano i profeti? Sì, eh? I patriarchi, i profeti dell'Antico Testamento avevano deciso che noi dovevamo stare insieme. Mi ha detto, quella volta ci avevamo delle idee, non ci avevamo delle tue. Mi ha detto, mi vuole sposare di per lì così, eh? E io naturalmente gli ho detto, sì. Il 18 giugno del 1956 ci siamo sposati, sì. E ormai sono quasi 60 anni. E dopo piano piano so come in te nasceresti i figli, ecco, ne abbiamo fatti cinque. Poi c'è stato un primo, è morto Prococco, piccolino, è morto dopo qualche ora della nascita. E dopo mi sono giusto questi altri, sempre qui, in questa casa. Prima era soltanto questo piano, il pian terreno. Poi man mano che nascevano i figli abbiamo dovuto fare un altro piano per tenerli tutti, se non ci entravamo qui. Dopo che i figli si sono fatti piuttosto più grandi, siccome noi andavamo sempre in chiesa, e piano piano ci sono abituati anche loro, no? Dopo la prima comunione, tutti quanti dopo sono entrati nei vari gruppi parrocchiali, nei giovani, ecco, sì. Ho partecipato anche io alle attività della parrocchia, insomma, ho avuto diversi incarichi. E li ho fatti sempre molto volentieri perché ce l'avevo proprio nel DNA, dalla giovinezza, insomma, ecco. Non a non a non a Celsiuschi nostro barra, insomma, ecco, ecco.